Ultimo appuntamento con l'informazione di Florence Multimedia sulla viabilità in Toscana, una cordiale buonasera da Andrea Biagioni. Andiamo subito a vedere qual è la situazione in Fipilì. Fermangono infatti 6 km di coda tra Montopoli-Valdarno e Ponte d'Era Est verso Livorno a causa della chiusura del tratto tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest. Chiusa anche l'entrata di Ponte d'Era Est in entrambe le direzioni. Per la viabilità della città di Firenze in via Oderico da Pordenone restringimento di carreggiata con rallentamenti, possibili disagi in via dei Sette Santi a causa di un incidente. Chiudiamo sui cantieri di Firenze aggiornamento sui lavori di asfaltature in via Morosi e via Lorenzini che sono stati rimandati a causa del maltempo al 14 ottobre e al 15 ottobre. Rimandati anche lavori di pavimentazione su Ponte Vespucci e l'asfaltatura in Piazza Francia al 19 ottobre. E per oggi è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!